ecco qui signori preso una bellissima gannetta della penna sia canna e mulinello della della vrat 2 quindi ora ve la mostro è veramente uno spettacolo fatta bene precisa leggera molto bilanciata anche perché quando si prendono mulinelli e canne praticamente la stessa marca sono escono già di fabbrica bilanciate e questa qui è una 10 30 e ho pensato di utilizzarla per la pesca alla spicola e quindi la prima cosa che facciamo mettiamo il trecciato io utilizzo questo 8x questo fatto apposta un trecciato per lo spinning mi trovo molto bene un ottimo carico di rottura anche essendo uno 0 18 facciamo il nostro nodino al mulinello e si comincia si una volta fatto il nodino tagliamo l'eccedenza e e voilà ci avviamo verso questa zona che a me piace tanto ci vuole un pochettino vario acce però è ottima sono due fiumi che si uniscono ne abbiamo uno a sinistra alla mia sinistra poi ce n'è un altro la mia destra e poi più avanti si uniscono e quindi diciamo che un ottimo punto per un po tutti i predatori che stazionano lì in attesa delle loro prede io principalmente ho detto visto che comunque siamo in inverno questo c'è anche se c'è il sole comunque fa molto freddo ho pensato a qualche capetono quindi ho messo il mio carissimo martin giallo e faremo qualche lancio cercando dopo aver letto l'acqua qualche rigiro d'acqua qualche parte dove è abbastanza ferma cerchiamo un po di vedere qualcosa qualcosa poi quando cala il sole nel cambio della luce proveremo qualche min nob nonostante avessi alte aspettative specialmente per i cavetani anche perché comunque il cavetano d'inverno tende a non muoversi tanto comunque cercano di limitare almeno al minimo i loro movimenti specialmente nell'attacco quindi non abbiamo un cavetano che gira che va che cammina lungo tutto lo specchio d'acqua ma avremo un cavetano molto fermo che aspetta che la corrente gli porti il suo cibo e ecco dobbiamo cercare di lanciare il nostro artificiale nelle zone dove c'è corrente oppure dove c'è corrente principalmente ma che poi dopo crea qualche rigiro d'acqua un po più ferma in modo che lui possa star lì e aspettare l'arrivo di cibo proveniente dalla corrente cosa che principalmente accomuna la maggior parte dei predatori e anche non essendo in inverno il loro metabolismo basale è molto basso quindi cercano utilizzare il minimo delle energie proprio nelle fasi di attacco e quindi nelle fasi di nutrizione e canna mulinello precisi belli la canna ha delle rifiniture pazzesche molto bilanciate quindi cosa molto importante nella pesca spinning avere una canna è un mulinello bilanciati perché comunque non si pesca per un'ora ma si pesca per tante ore quindi alla fine la nostra spalla e le nostre braccia poi potrebbero risentire andiamo nell'altra parte del fiume molto più profondo quindi tocca sondare la colonna d'acqua ai vari strati e prima cosa che faccio visto che ci avviciniamo alla punta della marea mettiamo questo pesciolino messo un crank testa rossa micidiale per un grandissimo predatore quindi dopo in particolare dopo aver visto un po l'acqua i rigiri dove si muove la corrente facciamo qualche lancio e subito abbiamo l'attacco bellissimo attacco molto forte fulmineo e preciso di di questa nostra bellissima regina che è sempre uno spettacolo prendere una bella spigola specialmente il primo pesce per questa canna quindi inaugurare questa canna con un pezzo da 90 ed eccola qui una bellissima spigola intorno ai tre chili un ottimo un'ottima cattura anche perché noi qui ci troviamo nei pressi della foce quindi siamo a meno di un chilometro dalla foce quindi le spigole specialmente nel periodo invernale risalgono i fiumi per deporre le loro uova e che dire è sempre uno spettacolo avere una una regina specialmente come primo pesce che inaugura una combo di un cane mulinello della pen perfetti belli precisi ottimi e il mulinello si è comportato bene anche le fasi di recupero e che dire alla prossima avventura amici miei ciao